Ma prima vi raccomanderei di utilizzare tutti i canali intermedi, per cui i primi potrebbero essere i vostri tutor, quindi i vostri colleghi, potete dire le prime difficoltà. Poi ci sono gli insegnanti di classe che sono importantissimi, sono molto preziosi e che sono sempre stati e che continuano ad essere per voi un punto di riferimento. Dopodiché ci siamo noi come gruppo, c'è la vicepresidenza e chiaramente ci sarò anche io in prima persona. Quindi grande disponibilità da parlare. Se sarete in difficoltà anche dal punto di vista del vostro rendimento, la scuola come vedrete tra poco metterà a disposizione interventi immediati, quindi un immediato reclutero che potrebbero essere in itinere oppure potrebbero essere raggiuntive, poi comunque lo comunicheremo quando prima. Nonché stiamo pensando anche di sostenere le eccellenze che ci sono in questa scuola, voglio dire, non è soltanto rivolto a chi magari ha qualche prima difficoltà, ma anche a coloro che si distinguono in un modo particolare. Insomma, una scuola a 360 gradi, quella che piace a noi, una scuola, come ho detto prima, che sia in grado e che deve essere sempre più in grado di conciliare la tradizione della classicità, in cui noi scoprirete il grande valore, la preziosità proprio del conoscere il mondo classico. Noi siamo quello, insomma, proveniamo da quel mondo, perché conoscere quel mondo, vedrete, ci permetterà di conoscere al meglio il nostro presente. Quindi il nostro presente, per avere consapevolezza del suo valore, della sua tara, trova le sue radici inevitabilmente nella storia, nel passato e nella memoria. E questo è un po' il filo conduttore e soprattutto è il fine di questa scuola. Mi sembra l'avete detto al quadro principale, qui c'è una rappresentanza del corpo d'agenti, un'autorità di altri strumenti per le lezioni, in classe, che vi accompagneranno sull'insegnante della primora, manca qualcuno. Sì, sì. 3 per 6, no? 15. 5. Al termine, sì. Quindi a ordine di, adesso lascerò la parola alla professoressa Boccia, la professoressa Lorusso, che sono state coloro, ovviamente, che avrete già conosciuto quando siamo punti a fare l'orientamento nella scuola media. Insomma, sono le nostre promo, no? Quindi sono sicuramente coloro che ci hanno permesso di avere una platea così importante e che io auspico in crescita. Quindi questo è unicamente, perché questo merito a questa scuola per tutto quello che ha fatto in tutti questi anni, soprattutto di generazione in generazione. Molti dei vostri padri, qualcuno, anche dei vostri nonni, ricorderà che c'è stato o ricorderà quello che è stato fatto da questa scuola. In bocca al vento.